È il popolo italiano che mi ha sempre veramente accolto in maniera molto, molto bella, calorosa. Io mi sento molto italiana, nonostante il fatto che non lo sia. Perché tu vivi negli Stati Uniti da un po' di anni. Da quanti anni? Sono circa dieci anni che vivo a Los Angeles. A Los Angeles. Sei diventata mamma. Sono diventata mamma, sì. Quanti anni ha la piccolina? La mia figlia ha quattro anni e mezzo. Quattro anni e un po' di mesi, sì. Si chiama la piccolina? Si chiama Nora. Nora, che è un nome molto bello. Grazie. E poi c'è una bellissima novità. Ti va di dirla? C'è una novità. È una novità molto bella. L'ho tenuta solo per te, per voi, che sono incinta di nuovo. Grazie. Non lo posso più nascondere perché si vede. Si vede un po'. Quindi ormai ho detto, vabbè, lo diciamo. No, con la prima gravidanza ho ottenuto questo secreto per tipo otto mesi e mi è andata bene. Questa volta invece, sai come sono le seconde gravidanze? Secondo me si vede un pochino prima, quindi eccoci. Non lo posso più nascondere. Sei felice? Sono felice. Poi sono felice a dirtelo a te. Grazie. Così in esclusiva mondiale. Nina, sei che era incinta per la seconda volta. Quando è prevista la nascita? A metà luglio. A metà luglio, quindi in piena estate. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.